Ecco il capogita. Buongiorno. Allora Marco? Nevica. Quattro gradi sotto zero. Vai a controllare i ritardatari. Guarda, guarda, si sta prendendo. Fantastico. Ecco il cancelletto. Prova Arva. Vediamo il solerte cancelliere. Il cancelliere? Ecco, il cancelliere non è male. Il cancelliere. Va lì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Chi è che ha dimenticato lo zaino? Non è una battuta? Mirella, portati avanti. Magari paghi di meno. Ha dimenticato lo zaino. Problema rampoli. Che ti aiuta Marco? Marco salva tutti. Inserimento rampoli. Sono duri. Sono duri. Vediamo gli ombrelloni. la quiete della montagna. La quiete della montagna. Adesso si approfondiamo. Adesso si approfondiamo la discesa. E questo giro se si arriva da qua. oggi è un'iosica. E esempio. Ciao. 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 Grazie a tutti. 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 Togliamo gli sci e abbiamo ancora un po' a piedi. Arrivati alla macchina. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti.